Diamo la parola al professor Giuliani, il quale da molti anni si occupa del problema delle radiazioni elettromagnetiche, dirige due dipartimenti dell'ISPESL che aveva il compito di proteggere le popolazioni anche dalle emissioni elettromagnetiche, è un brillante ricercatore sui meccanismi con cui i campi elettromagnetici influenzano i sistemi biologici, si occupa da alcuni anni anche dell'effetto Zadin che costituisce una ipotesi importante per quanto riguarda appunto i meccanismi di azione dei campi elettromagnetici sulle culture e sulle persone, è anche uno dei fondatori dell'ICEMS che è un'associazione internazionale di scienziati indipendenti che si occupano appunto della ricerca e della sicurezza sulle emissioni elettromagnetiche. Buongiorno, grazie per l'invito che mi avete rivolto. Cercherò di svolgere alcune considerazioni relative appunto all'esposizione ai radar. Ecco, noi dobbiamo partire da quello che è il risk assessment, dalla valutazione del rischio che è fatta dagli organismi internazionali di standardizzazione. Abbiamo questa norma della IEEE del 1991 la quale è stata sostanzialmente copiata dal CENELEC che è l'organizzazione dell'Unione Europea per l'energia elettrica e per l'energia nucleare. E poi nel 99 abbiamo avuto una raccomandazione europea, la 1999-519 CE. Tutte queste standard fissano in 4 watt per metro quadro il limite di esposizione della popolazione alla frequenza che sono qui di interesse tra 1 e 2,5 GHz. Bene, ma c'è una nota che voi potete trovare nell'allegato 4 della raccomandazione europea che dice che per le esposizioni ai radar il limite è aumentato di mille volte e quindi ci troviamo con niente meno che 4.000 watt per metro quadro. Perché? L'idea è che l'unica interazione che esiste tra campi elettromagnetici e organismi umani è un'interazione termica. Dunque, siccome la radiazione del radar è pulsata e inoltre c'è una spazzolatura del raggio del radar che quindi permane su una stessa posizione solo per una frazione di tempo e poi va via e poi si ovviamente ripete, allora si pensa che bisogna fare una media tra la non esposizione, quindi zero trasmissione di energia, e l'esposizione, alta trasmissione di energia. Questa media si è valutata, comporta che bisogna moltiplicare per mille il valore di esposizione che è stato misurato. Perché? Perché si immagina che in generale i radar abbiano una pulsazione di un microsecondo, un millisecondo, scusate, un millisecondo, che quindi l'irradiazione avvenga per un millisecondo. Dovendo avvenire per un millisecondo, se l'unico effetto è un effetto termico che è un effetto accumulativo, bisogna moltiplicare per mille. Questo poi non è così, tant'è che per esempio il radar di potenza vicena, il nuovo che dovrà avvenire, dovrebbe avere qualcosa tra, mi pare dovrebbe essere sui 50 microsecondi, ma insomma non è ovviamente così, perché non l'unica interazione tra organismi umani e radiazioni è quella termica. Comunque dal punto di vista di quella termica noi sappiamo che Lanzi nel 1981 ha posto questa soglia di tollerabilità in 4 watt per chilogrammo. Conseguentemente la IEEE Cenelec e Icnerp, con lo standard che dicevo, ha adottato un fattore di sicurezza di 50, per cui ha scalato questa soglia termica a 80 milliwatt per chilogrammo. Questo, ora, nel caso del radar invece questo 80 milliwatt diventa 80 watt per chilogrammo, sia pure mediato. È giusto? Ci sono solo effetti non termici? Bene, Ross-Adi nel 1976 mise in evidenza che esistono effetti non termici importanti. Nel 1992 la EPA commissionò a Wallashek un survey, un review di tutti i lavori che evidenziavano effetti non termici o atermici, come dice Wallashek. Ebbene, già nel 92 è questa letteratura che dava conto di effetti non termici o atermici, per usare i termini di Wallashek. Era copiosa, era significativa già nel 92. Noi abbiamo tentato con la monografia dell'Icems del 2010 di dar conto di alcuni altri effetti, grazie alla collaborazione di molti colleghi che sono anche qui. Io ringrazio in particolare Nesrin Seyan che ha contribuito con, mi pare, tre articoli molto importanti in questa monografia. Una monografia che voi potete scaricare dal sito www.icems.eu gratuitamente ed è online. Quali genere di emissioni portano effetti non termici? Bene, principalmente ci sono le ELF, le emissioni tra 0 e 300 Hz. La cosa fu già evidenziata dal punto di vista epidemiologico da Vertheimer Lipper già nel 1979. Bisognava capire quali fossero i meccanismi e qualche progresso, non molto, ma insomma è stato fatto in questo periodo. Poi le onde modulate in ampiezza in banda ELF. Già Bowen e Adi nel 1976 misero in evidenza questo effetto che avevano le onde modulate in ampiezza. Blackman nel 1979 con i suoi collaboratori mostrò che radiazioni modulate in ampiezza in banda ELF avevano la capacità di indurre un flusso alterato del calcio dalle cellule negli intestizi intracellulari del cervello di pulcini esposti. Nell'80 lui ripetè l'esposizione con sole ELF nel 1980 e ebbe lo stesso effetto. Peraltro ripetè l'esposizione con solo carrier wave, con solo onde portanti, senza modulazione, ebbe nessun effetto. Da lì si è sviluppato un filone di studi che cercava di focalizzare questo rapporto tra esposizione a onde modulate in ampiezza, a ELF pure e infine a onde non modulate. Bene, nel 1997 il mio gruppo di ricerca con Mimmo Grimaldi e Antonella Lisi esponemmo a ELF dei linfosciti e avemmo questa immagine che potremmo cogliere con il microscopio elettronico a scansione prima dell'esposizione l'immagine A, voglio dire, e voi vedete che i linfosciti hanno microvilli che invece vengono persi dopo l'esposizione, qui è un'esposizione a 2 mT a 50 Hz. è un effetto reversibile, abbiamo fatto altre immagini da cui abbiamo potuto ricavare con il microscopio a forza atomica che in realtà i microvilli sono introiettati nella struttura, nel citoscheletro, non sono persi. è un effetto reversibile, ma è un effetto, credo, icastico, fortemente immaginifico e significativo da questo punto di vista. Quali altri effetti possiamo vedere? Beh, mi dispiace che non ci sia il collega che immaginava come interazione quella dovuta principalmente ai ROS che sicuramente esiste, ma esiste, noi riteniamo, un'interazione diretta del campo magnetico, cioè tra i vari gradi di libertà con cui il campo elettromagnetico trasferisce energia, c'è il grado di libertà legato al campo di induzione magnetica. C'è un accoppiamento diretto tra induzione magnetica e meccanismi cellulari. Questa è un'immagine che abbiamo ottenuto al microscopio confocale, è una cellula, un linfoscita, che è marcato con una sonda, un marcatore fluorescente, rosso, e all'inizio voi vedete che il calcio, che è il marcato, il marcatore è per il calcio, è contenuto nei vari organelli del citoplasma. Appena si applica il campo, noi l'abbiamo applicato, il campo di iono risonanza ciclotronica del calcio, noi l'abbiamo applicato all'inizio del filmato, il calcio fuoriesce dagli organelli e si diffonde nel citoplasma. Voi potete vederlo perché c'è una diminuzione di intensità del rosso degli organelli e invece c'è un leggero aumento di intensità del rosso del fondo del citoplasma. Ecco, se vedete la fine e la confrontate poi con l'inizio del filmato, si vede chiaramente che all'inizio si ha un'intensità molto maggiore all'interno degli organelli, che voi vedete ben delineati. Questo esperimento, che noi abbiamo condotto intorno al 2005, cosa mostra? Mostra che effettivamente l'azione del campo magnetico iono risonante, accordato con la frequenza di iono risonanza del calcio, è in grado di mobilitare ioni calcio all'interno della cellula. Questa è una vexata questione, una questione importante, perché voi ricorderete che il collega Liburdi subì una sorta di processo internazionale per aver affermato che effettivamente il campo magnetico era in grado di muovere ioni calcio. Perché questo era uno dei temi più importanti, quello diciamo su cui l'American Society of Physicists aveva concluso dicendo che non è possibile che le evidenze epidemiologiche di Vertheimer e Lieper, e poi le successive, abbiano una consistenza scientifica. perché il campo elettromagnetico associato a un elettrodotto dell'ordine del mezzo microtesla è un campo magnetico che produce una forza di Lorentz dell'ordine di 10 alla meno 21 newton che è 10 milioni di volte meno intensa della forza di Brown dovuta agli urti casuali a temperatura ambiente dovuto al KT, cioè a quello che è l'agitazione termica dovuta alla temperatura ambiente. Dunque non è possibile, non si forma nessuna corrente di ioni e se non si forma nessuna corrente di ioni non c'è nessuna reazione chimica con buona pace anche di quelle che il collega giustamente invece ha sostenuto esistono e producono interazioni per esempio con i Rost. Ebbene, questo non è vero. Noi l'abbiamo credo mostrato con un filmato televisivo che possiamo ovviamente riprodurre con qualsiasi scettico osservatore in laboratorio. Il campo magnetico a frequenza ciclotronica è in grado di muovere correnti ioni che se la frequenza ciclotronica è quella del calcio saranno correnti ioni del calcio se è quella del magnesio è del magnesio e così via. Finché, prima ovviamente di questo esperimento, Michael Jadin ha mostrato che le correnti ioni che si creano anche nel muovere ioni, anzi neanche ioni, ma molecole neutre polarizzate, zwitterioni di acidi nucleici. Quindi esiste una interazione del campo magnetico diretta con la materia vivente e questa interazione non può essere trascurata. Ovviamente bisognerà fare ulteriori progressi, ma è, io credo, l'inizio di quel modello di plausibilità biologica che è richiesto dall'OIARC per esempio per classificare probabile cancerogeno o cancerogeno certo, un possibile cancerogeno. Perché quello che viene richiesto è non solo l'evidenza epidemiologica che è stata riconosciuta nel 2011 e nel 2001 dall'OIARC rispettivamente per le alte frequenze e è stata riconosciuta come possibilità biologica, possibilità di cancerogenicità, mentre la conoscenza del meccanismo biologico attraverso il quale un inquinante può generare il possibile cancro, la conoscenza del meccanismo comporta un salto di gradino dal possibile cancerogeno al probabile, quindi il passaggio dalla classe 2B alla classe 2A o addirittura alla classe 1. Bene, noi abbiamo anche mostrato che questa interazione può essere anche sfruttata per fini biotecnologici con finalità future terapeutiche. L'abbiamo fatto con cellule con cheratinociti, con cardiomiociti, cellule staminali del cuore che abbiamo differenziato in cardiomiociti e recentemente, l'anno scorso, abbiamo pubblicato anche per cellule muscolari. Qual è il genere di emissioni nella radiazione del radar, del no radar, di potenza epicena? Questo tipo di radiazioni sono equivalenti a microonde, a microonde portanti, che sono modulate in ampiezza attraverso una forma d'onda di quadra e sono modulate in ampiezza nella banda elfa. Bene, nel 2000 comparve un lavoro sul Lancet di Gerard Highland in cui lui metteva in evidenza come la convoluzione dei segnali sia essa stessa un segnale che può essere poi separato e isolato all'interno del nostro corpo da moltissime macromolecole che sono usuali nelle nostre cellule e che hanno una capacità di diodo, cioè di separare, come in una televisione, come in un apparetto di chio televisivo, di separare la componente in alta frequenza della portante dalla componente in bassa frequenza relativa alla convoluzione dei vari picchi delle pulsazioni. Dunque, ci troviamo in sostanza davanti a un campo modulato in ampiezza, in alta frequenza. Io nel 1997, quando suggerì i limiti di esposizione per i campi elettromagnetici che poi sono stati adattati in Italia e in Svizzera e in altri paesi, suggerì il limite di 6 volt metro o di 100 millivatt per metro quadro, ma anche per le radiazioni modulate in ampiezza il limite di 3 volte metro. Questo limite è stato adottato in Svizzera. L'anno dopo, nel 1999. Ma non è stato adottato in Italia a causa di una lettera dell'Istituto Superiore di Sanità firmata da Comba e da Grandolfo, nel quale si diceva che 6 volte metro era già tanto, insomma, e che quindi non si poteva scocciare chiedendo anche che il limite fosse posto a 3 volte metro. Una lettera, peraltro, illegittima. Ci fu poi una causa al TAR. Il Ministero della Salute addirittura negò l'esistenza di questa lettera che fu poi prodotta. Ci fu una sentenza del TAR che ordinò al Ministero di produrre i documenti del procedimento. E il Ministero non l'ha mai fatto. Sarà bene che la popolazione chieda conto al nuovo Ministro di questi fatti che sono avvenuti nel 1998. Ma c'è un altro punto e riguarda l'informazione ai cittadini. Noi sappiamo che da moltissimo tempo l'informazione, per esempio, su radar di Potenza Vicena è praticamente nulla. L'informazione ai cittadini Noi siamo in grado di oggi, noi, non noi, in generale, l'umanità è in grado, ovviamente, di produrre una valutazione dell'esposizione in tempo reale su Internet. Insieme al professor Olle Johansson e a Alberg e a altri colleghi, prima di parlare di questo direi che abbiamo, per esempio, pubblicato nel 2006 sul giornale che oggi è edito dal professor Henry Lai, abbiamo pubblicato un lavoro in cui era possibile vedere come programmi industrialmente disponibili consentono di fare la valutazione contemporanea dei livelli di esposizione prodotti da tutte le sorgenti che insistono in una città e avere la valutazione del livello di campo su ogni edificio e in ogni angolo di ogni strada. È una cosa fattibile, è stata fatta, l'abbiamo fatto proprio nel mio gruppo, l'ha fatto alla città di Pisa dove la città di Pisa ha chiesto questa valutazione e abbiamo fornito una valutazione dei livelli di campo su 45.000 edifici di cui è fatta la città di Pisa, 45.000 edifici contemporaneamente. Ci sono diversi software, forse il nostro è il più potente, altri comunque sono il Winfield disponibile sotto Windows della Narda americana, veramente è stato sviluppato dalla consociata tedesca Vandele-Golterm della Narda in Germania ma insomma è un software che è in grado di fornire questa valutazione del rischio su mille edifici ma appunto noi l'abbiamo fatto e consegnato alla città di Pisa su 45.000 edifici si può arrivare a 100.000 questo dipende dalla potenza degli elaboratori ma quello che è interessante è che si può avere via internet cioè ciascun cittadino potrebbe vedere qual è il livello di esposizione del suo appartamento della sua casa perché non si fa ecco dicevo con il professore Johansson e gli altri colleghi con cui abbiamo fatto presentato una proposta al programma quadro numero 7 relativo al sottoprogramma 2013 6.4.2 per il quale l'Unione Europea ha messo una borsa di 6 milioni di euro che però evidentemente è stata probabilmente noi almeno abbiamo ipotizzato e credo che poi alla fine sarà vero è stata già dedicata all'Imperial College di Londra dove collaborano alcuni esponenti di quel mondo grigio di scienziati che ha connessioni con con l'industria hanno parenti a Bruxelles che sono consulenti della telefonia ebbene in questa proposta c'è stato c'è stato detto dagli advisor dell'Unione Europea che il dare una rozza secondo loro rozza bonta a loro rozza ma secondo noi invece precisa valutazione dell'esposizione a tutti i cittadini può indurre paura nella popolazione per cui la nostra proposta è stata rigettata anche se poi è stata adesso riproposta per nell'ambito della procedura di riesame delle proposte bene noi pensiamo però che sia un diritto della popolazione conosce i livelli di esposizione alle microonde poiché è possibile fornire questa informazione e fornirla in tempo reale e via internet perché non vogliono che sia fatto grazie del vostro attenzione grazie 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 grazie